L'ordinanza ministeriale sugli esami di Stato non c'è ancora, anche se ormai viene data per imminente. Nella giornata di mercoledì 6 maggio, però, il Ministero ha già fornito molte informazioni sull'argomento. Nel corso dell'incontro con le organizzazioni sindacali, il capo dipartimento, Max Bruschi, ha confermato diversi aspetti che già si conoscevano. Intanto, la data di inizio degli esami sarà il 17 giugno, con un colloquio della durata massima di un'ora. La prova si farà davanti ad una commissione composta da 6 membri interni e da un presidente esterno. In tal modo, gli studenti potranno essere valutati dai docenti che conoscono il loro percorso di studio. I crediti precedenti varranno 60 punti, mentre il colloquio potrà essere valutato fino ad un massimo di 40 punti. Max Bruschi ha però fornito una novità importante, annunciando che il cosiddetto documento del 15 maggio, che deve essere messo a punto dai consigli di classe, potrà essere definito e approvato anche più avanti, ma comunque entro il giorno 30. Nello stesso pomeriggio, la ministra è stata presente anche alla Camera per rispondere a diverse interrogazioni a risposta immediata e una di queste riguardava proprio l'esame di Stato. La ministra Zolina è stata chiara su un punto. La prova si svolgerà in presenza, senza che venga però messa a repentaglio la massima sicurezza per tutte le persone coinvolte. A tale scopo, ha aggiunto a Zolina, il ministero lavorerà in stretta collaborazione con le forze sociali per definire uno specifico protocollo che impegni tutti i soggetti coinvolti. L'esame, ha detto ancora la ministra, sarà così articolato. Discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo, discussione di un breve testo già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno, analisi da parte del candidato del materiale scelto dalla Commissione. I candidati esporranno altresì le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento e saranno accertate le conoscenze relative a cittadinanza e costituzione. Lucia Azzolina non ha escluso a priori che le prove si possano svolgere anche a distanza, come in molti associazioni, movimenti, singole scuole ma anche sindacati stanno chiedendo da parecchi giorni. Nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, ha detto infatti la ministra, i lavori delle commissioni e le prove d'esame potranno svolgersi in videoconferenza o con altra modalità telematica sincrona. Restano ancora da chiarire alcuni particolari, tra cui le modalità di partecipazione all'esame dei candidati privatisti, particolari che conosceremo a breve non appena verrà emanata l'ordinanza. Tra questi ce n'è un altro molto importante. Sembra che il Ministero sia orientato a porre dei vincoli sulla ammissione all'esame di Stato. Potrebbero cioè non essere ammessi gli studenti che hanno accumulato un numero eccessivo di assenze fino al momento della sospensione delle attività didattiche in presenza. Il quadro sulla conclusione dell'anno scolastico sarà completo quando conosceremo anche i contenuti degli altri due provvedimenti in arrivo. Quello sull'esame di Stato del primo ciclo e l'altro sulla valutazione conclusiva per tutte le classi intermedie. Ovviamente su questo noi continueremo a tenervi informati, soprattutto seguiremo l'emanazione della ordinanza, anzi delle ordinanze che tutti stanno aspettando, quindi continuate a seguirci su questo canale ma anche sul nostro portale www.tecnicadellascuola.it. Continuate a scriverci, a leggere, a commentare e a mandarci le vostre osservazioni. Noi continueremo a darne conto come sempre.